I consiglieri regionali di Forza Italia Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri hanno ribadito in una conferenza stampa all'emiciclo la posizione del proprio gruppo consigliare sulla vicenda del maltempo in Abruzzo chiedendo con urgenza la convocazione del Consiglio straordinario richiesto dalle stesse minoranze. Vogliamo fare questo Consiglio regionale prima del documento di programmazione perché chiederemo e ci impegniamo anche noi a trovare le risorse da poter mettere su quei capitoli facendo anche delle rinunce. Per Forza Italia il maltempo ha dimostrato il totale fallimento della macchina organizzativa messa in campo dalla regione Abruzzo. Rimettere a posto la macchina amministrativa che con una riforma sballata che non aveva i piedi per camminare è stata distrutta, rimetterla in piedi, trovare un assessore serio che faccia l'assessore alla protezione civile. Serve quindi il nuovo modello di governance per le emergenze e più risorse per i comuni e le province abruzzesi. Gli stanziamenti sono gli stessi degli anni precedenti, 550 mila euro per dare 100 mila euro a provincia e non dargli la possibilità neanche di comprare il sale credo che non serva a niente. Noi riteniamo invece che dopo l'esperienza, ma insomma non è solo il problema di ciò che è accaduto lo scorso anno, oggi credo che i cambiamenti climatici ci preannunciano stagioni sempre più difficili, sempre più complicati. Bisognerebbe fare una scelta, la scelta quella di intervenire seriamente, distanziare fonti concreti.